Questa mattina, davanti ai cancelli dell'Ipsar Petronio, l'Istituto Alberghiero di Monte Ruscello, campeggiava uno striscione recante la scritta Ipsar Occupato. Qualche centinaio, i ragazzi che a ritorno dalle festività natalizie, hanno deciso di non riprendere le elezioni e di prendere possesso della struttura. Alla base della protesta, la decisione da parte dell'amministrazione scolastica di organizzare le elezioni in doppi turni. Il primo dovrebbe partire alle 8.30 e terminare alle 13.40. Il secondo partirebbe invece alle 14.40 per poi terminare alle 18.40. L'esigenza dei doppi turni sarebbe la conseguenza, detta dei ragazzi in protesta, di un eccessivo numero di iscritti e della mancata apertura del secondo plesso sito nella struttura dell'ex ospedale Santa Maria delle Grazie, in zona San Gennaro, che sarebbe dovuto essere inaugurato ad ottobre. Siamo in occupazione perché questa situazione che si è creata, dei doppi turni, a noi non sta bene. A noi c'era stato promesso la scuola, quella là, ex ospedale Laschiana, e ancora tutt'oggi non c'è stata data. Questo doveva succedere ad ottobre. Da ottobre siamo passati a novembre, da novembre a dicembre. Adesso a gennaio questa è l'ultima volta che noi non ne possiamo più. È impossibile per noi reggere il sistema dei doppi turni, tuonano gli studenti dell'Ipsar. Ad oggi 1680 divisi in 55 classi, 20 in più rispetto alla capacità della struttura di Monte Ruscello. I doppi turni, stress, 15 giorni di mattina, 15 di pomeriggio. Per lo più poi ragazzi che devono arrivare lontano, come le zone Marano, Qualiano, Lagopate, cioè che devono venire con i mezzi, arrivano tardissime a scuola, penso che queste sono condizioni pessimi. A questo poi si aggiunge anche la situazione igienica, diciamo, che visto che il personale è poco e ci sono questi doppi turni, il personale non riesce a pulire come si deve la scuola e a metterci in condizioni igieniche buone. I ragazzi che accusano il dirigente scolastico di essere sempre stato al corrente dei lunghi tempi di attesa necessari per entrare in possesso della nuova struttura, ma avrebbe bleffato per accogliere un maggior numero di iscritti, non intendono cedere e minacciano di continuare la protesta finché la provincia non provvederà ad accorciare i tempi di attesa per la nuova struttura. Infine chiediamo che la provincia, in questo momento, anche se ha difficoltà di vedere, cioè di fare qualcosa, ci deve mettere in condizioni di studio ideali. Il nostro pensiero è quello di riuscire a risolvere questa situazione, ma è anche quello di non perdere un anno, perché per colpa di qualcuno che ha fatto di testa sua, sbagliando e mettendo 1600 ragazzi in difficoltà, cioè non dobbiamo pagarci noi perdendo un anno scolastico. Grazie.